Ciao ragazzi, eccoci ancora qua per una nuova puntata di Board2Rails, oggi giornata trafficata tra burocrazie, tra mail, tra parlare con gli addetti all'organizzazione delle gare del trofeo Coppa Italia per questa wildcard vinta al circuito Tazio Nuvolari, finalmente abbiamo fatto, abbiamo avuto l'approvazione in nulla osta, ragazzi sto guidando, in nulla osta dal centro sportivo, siamo idonei per accedere alla gara del 7 luglio, come teatro sarà uno dei circuiti più belli al mondo, e voi sapete che si tratta del Mugello, e andremo a... un'emozione tanta eh, per me che sono tra virgolette un neofita come tanti di voi, quindi potrete capire, e saremo assistiti dal team puntini puntini puntini, Ivan puntini puntini e lo andremo a scoprire più avanti, cosa ne dite? Un po' di sospanso non fa mai male, va bene? Con questo adesso vi saluto, stiamo andando in palestra ad allenarci, vediamo se riusciamo sempre a stare sul pezzo.